Musica Bentro a tutti sul canale di 5. Allora ragazzi, oggi stiamo con la recensione del quinto e forse ultimo capitolo di una delle saghe horror più celebri degli ultimi tempi. Sto parlando di un film del 2023 per la regia di Patek Wilson ed è Insidious, La Porta Rossa. Allora ragazzi, ammetto che la saga di Insidious l'ho recuperata più tardi di quanto forse avrei dovuto ed è in merito all'uscita del quinto e ultimo film che ho recuperato tutti e quattro i film in blu-ray su Amazon e me li sono sparati in maratona praticamente uno di fila all'altro in due giorni. Allora, Insidious parlando in generale della saga, l'ho apprezzata, l'ho recuperata più o meno il mese scorso e tutto sommato è una saga horror carina che si è andata molto a perdersi con i due prequel che sono succeduti ai primi due film. I primi due film riguardavano la famiglia Lambert che torna protagonista in questo quinto film, mentre invece a sorpresa gli altri due film, non me l'aspettavo, erano dei prequel incentrati sul personaggio di Lishai, ovvero su Elise, la cacciatrice di fantasmi e Medium che accompagna i Lambert per tutto il loro viaggio. Inizialmente, in più, quando vedi il trailer di Insidious 5 non è che ci capì molto, per questo era doveroso recuperare i primi film e poi sono andato a riguardarmi ulteriormente i trailer del quinto film per vedere che cosa non avevo capito, per vedere che cosa mi era sfuggito. E quando venne annunciato che Patrick Wilson sarebbe stato addirittura alla regia di questo film, non sarebbe tornato solo come Josh Lambert, il protagonista dei primi due film, ma sarebbe stato anche il regista, debuttando proprio nella professione di regista, allora la cosa la trovai parecchio interessante. Meno interessante era far tornare invece i Lambert, con i quali avevamo tecnicamente chiuso la parentesi Insidious già col secondo film, ma tutto sommato vedere la famiglia riunita con anche i vecchi attori come Ty Simpkins che tornava a interpretare Dalton Lambert Poteva essere interessante e alla fine sono arrivato in sala con, vabbè, poche aspettative perché comunque Insidious non credo che sia un grandissimo franchise come molti dicono, ma è sicuramente uno dei franchise horror più validi a livello commerciale rispetto a molte altre puttanate come il The Conjuring Universe e sì che anche The Conjuring è stato ideato da James Wan, solo che appunto mentre dietro Insidious si percepisce sempre la mano di James Wan e anche la mano di Lake Van Nell che è autore anche dell'Uomo Invisibile, quello del 2019, invece con The Conjuring la saga è andata a perdersi perché è finita di mano in mano a persone come Gary Doberman che non dovrebbero neanche avvicinarsi a una sceneggiatura o a una macchina da presa per quel che mi riguarda ma tutto sommato in Insidious si percepisce sempre quell'aura di continuità e di connettività e anche una sorta di stile condiviso magari cambiano i registi come Lake Van Nell, James Wan oppure in questo caso anche Patrick Wilson però tutto sommato si percepisce sempre una certa continuità anche stilistica però il film in sé per sé non è che mi abbia fatto impazzire io il film do come voto un 6,5 però mentre stavo appunto in sala mi sono reso conto che non solo quello che mi sono trovato di fronte è un capitolo molto frivolo, è un capitolo molto basico e che soprattutto non aggiunge niente di nuovo alla saga e si poteva tranquillamente evitare forse Patrick Wilson ha fatto ritornare i Lambert solamente per ritornare a interpretare il ruolo ma ripeto quella dei Lambert era una parentesi già chiusa col secondo film non c'era bisogno di richiamarli e mi sono ritrovato di fronte a un horror comunque di intrattenimento non dico di no ma che non valeva la pena fare questo dovrebbe essere il capitolo che chiude la saga però ci sarà un altro film, uno spin-off completamente slegato da questa cosa più sul modello del terzo e del quarto film con un protagonista o coprotagonista Kumail Naniani il kingo di Eternals perciò adesso io mi avventurerei nella parte no spoiler della recensione di Insidious da Porta Rossa però non lo so, per me questo è proprio un film che non valeva la pena realizzare e cominciando a parlare dei punti positivi e dei punti negativi il primo punto positivo è rappresentato sicuramente dalle performance di Patrick Wilson e di Ty Simpkins per quanto io fossi contrario una volta finita di vedere la saga di Insidious in Blu-ray fossi contrario a richiamare i Lambert ma era comunque un bel rimando ai primi due film comunque si vedeva l'interesse anche dalle interviste di Patrick Wilson e di Ty Simpkins nel tornare a interpretare quei personaggi che li hanno definiti e che hanno definito la saga di Insidious tutto è cominciato con i Lambert quindi se proprio bisogna concludere la saga e metto concludere tra virgolette visto che la saga non finirà con i Lambert ma ci sarà appunto lo spin-off con Kumail Naniani tanto valeva richiamare coloro che hanno dato inizio al tutto e Josh e Dalton che sono rispettivamente Patrick Wilson e Ty Simpkins ritornano in questo film più convinti che mai con una storia che sarebbe stata anche interessante sviscerare meglio e con un po' più di originalità ma ne parleremo dopo nei punti negativi tutto sommato comunque mi è piaciuto rivedere questi due protagonisti che ritornano a affrontare i misteri dell'altrove che ripercorrono la storia che li ha definiti nei primi due film ci sono forse un po' troppi rimandi ai primi due film e ci si concentra troppo su ciò che è stato piuttosto che inventare cose nuove come hanno fatto tutti quanti i film della saga tutto sommato però ripeto mi è piaciuto rivedere questi due in azione e poi il secondo punto positivo cioè non c'è molto da commentare purtroppo perché è un film molto generico e molto basico e anche lineare il secondo punto positivo invece è la regia di Patrick Wilson Patrick Wilson è principalmente un attore l'abbiamo visto nella saga di Insidious che interpretava Josh Lambert e anche in tanti altri film sempre con James Wan e Lake Van Nell come per esempio The Conjuring perché Patrick Wilson è Ed Warren della saga The Conjuring assieme a Vera Farmiga che interpreta sua moglie Lorraine poi l'abbiamo visto in Aquaman per esempio che interpreta Norm il fratello di Arthur Curry il fratello di Jason Momoa e proprio sul set di Aquaman 2 The Lost Kingdom sembrerebbe che a Patrick Wilson sia venuta la voglia l'interesse di debuttare alla regia debuttare alla regia con questo film prendendo anche tra le mani un soggetto del suo amico Lake Van Nell di James Wan di un franchise che gli sta a cuore che lo ha definito nella sua carriera riprendere in mano un personaggio che lo ha definito e perciò sperimentare proprio su questo ci sono forse un po' troppi jumpscare ma questo in realtà è un punto positivo all'interno del film perché va bene per quanto alcuni jumpscare siano veramente telefonati e sapete quanto a me non piacciono i jumpscare il film per via della sceneggiatura ne parleremo tra poco nei punti negativi è un po' troppo lento è un po' troppo noioso e quando finalmente Patrick Wilson gestisce la regia i jumpscare i jumpscare paradossalmente sono l'unica cosa che mi ha tenuto attivo che mi ha tenuto sveglio ci sono un paio di sequenze interessanti come la sequenza della risonanza magnetica oppure ogni sequenza ambientata nell'altrove vedere questa specie di dimensione parallela che sembra il sottosopra di Stranger Things è solo molto più esoterico molto più inquietante ad effetto Patrick Wilson ha gestito molto bene sia la regia che la scenografia che anche i fantasmi ripeto alcune scene sono un po' prevedibili alcuni jumpscare un po' patetici ma paradossalmente riescono a ravvivare la situazione in una sceneggiatura che non è esattamente alle stelle o al massimo non come gli altri film a molti non sono piaciuti i primi due film cioè gli ultimi due film con Lee Shy il protagonista i prequel su Elise su Elise ma a me sono piaciuti invece sono piaciuti proprio perché esploravano meglio la lore esploravano meglio anche il passato il passato della spiritista era molto interessante come dinamica io però avrei finito i punti positivi adesso iniziamo con i punti negativi che sono sempre due per bilanciare e il primo punto negativo va alla trama che hanno scelto come ho detto prima so che nel rischio di ripetermi ma non c'è moltissimo di cui parlare in questo film richiamare per l'ennesima volta la famiglia Lambert per me non aveva molto senso perché vorrei ricordarvi in più che il cliffhanger del secondo film il cliffhanger finale del secondo film non riguardava neanche i Lambert i Lambert avevano superato le loro avversità con l'altrove prima nel primo film risvegliando Dalton e ricacciando quindi il demone rosso nell'altrove nel secondo film veniva fuori che invece la donna col velo nero si era impossessata di Josh Lambert di Patrick Wilson nel film precedente e perciò bisognava scacciare questa presenza da dentro il corpo di Josh ma alla fine del film tutto era risolto l'altrove era stato chiuso Josh esorcizzato Dalton si è riappacificato col padre e sembrava che loro andassero in terapia per sistemare alcune cose cioè per superare questa paura dell'altrove invece in questo film scopriamo che il finale del secondo film quella non era solo una terapia una seduta di terapia ma serviva proprio per creare un'amnesia nella mente di Josh e di Dalton per far dimenticare loro gli eventi dell'altrove far dimenticare loro gli eventi di quell'ultimo anno e quindi farli scordare quindi che loro hanno i poteri di viaggiare nell'altrove di far muovere il loro colpo astrale in un'altra dimensione cioè già questa è una trama un po' stupida secondo me è proprio una retcon brutta perché hanno hanno trovato un pretesto quindi per campare solamente sul passato questo è un film nel quale si cerca di riscoprire solo ed esclusivamente il passato dei Lambert cioè il passato dei primi due film ma senza sbocchi narrativi veri e propri perché era naturale quindi nel primo film che Dalton scoprisse di avere questo potere restasse bloccato nell'altrove e poi dovessero salvarlo dando inizio alla catena di eventi che scatenavano anche il secondo film gli aveva senso ma invece in questo film il motore della trama avviene a caso perché i ricordi soppressi di Dalton e di Josh sono come acqua sotto pressione che è stata sotto pressione per troppo tempo e sta eruttando cioè a un certo punto è esplosa dopo dieci anni degli eventi del secondo film facendo ricordare quindi a loro queste cose e usando i loro poteri per scatenare ulteriormente i demoni dell'altrove è una trama parecchio banale secondo me è una trama proprio da Lega Sequel e questo film non vuole essere cioè vuole essere un po' con dinamiche da Lega Sequel senza essere di fatto un Lega Sequel non ha molto senso è proprio un pretesto scialbo per creare un sequel e questo si accomuna anche al secondo punto negativo di cui parleremo tra poco ma un'altra cosa che non mi è piaciuta sempre parlando di questa trama è il modo nel quale hanno trattato la famiglia Lambert perché sembrava appunto che nel secondo film la famiglia fosse riuscita a risolvere le loro avversità fosse riuscita quindi a sistemare i casini ma invece viene fuori che Josh è tutto nei trailer quindi non spoilerò più di tanto anche se in questo film non c'è niente da spoilerare tutto sommato viene fuori che Josh ha seguito dell'amnesia causata dalla terapia è diventato ancora più distante dalla famiglia di quanto non lo fosse già nel primo film la famiglia si è divisa c'è un funerale quindi si vede che un membro della famiglia è morto in tutto questo tempo in questi dieci anni di distanza non vi dico chi ma è parecchio prevedibile visto che nell'inquadratura si vedono cioè al funerale nell'inquadratura si vedono i membri principali della famiglia quindi potete immaginare chi sia morto e per tutto il film in più Josh Lambert e suo figlio Dalton ovvero Patrick Wilson e Ty Simpkins sono separati Ty Simpkins e al college mentre Patrick Wilson va in giro per la città e per casa della famiglia a cercare di ricordare che cos'è che è stato soppresso nella sua mente ma la dinamica padre e figlio che dovrebbe essere al centro della trama viene viene fermata viene stoppata completamente dal fatto che loro per tutto il film sono separati hanno delle interazioni per cellulare oppure si incontrano in un paio di scene ma proprio nel finale quando nel finale la tematica padre e figlio è importantissima e si vede il loro legame legame che avrei voluto vedere per tutto il film invece il film finisce così in uno schiocco di ditta non puoi neanche goderti la dinamica padre e figlio che si ricongiungono che lavorano insieme come si vede nel trailer cioè non mi è piaciuto molto proprio come hanno trattato la dinamica della famiglia e della storia ma secondo punto negativo la cosa che più non mi è piaciuta è la mancanza di novità in tutti i capitoli della saga Insidious si è cercato di aggiungere sempre delle novità della lore dei misteri aggiuntivi e la cosa che più ho apprezzato nei quattro film della saga che ho visto in blu ray è che in ogni sequel o anche alla fine del primo film veniva fuori che alcune cose che accadevano sullo schermo come per esempio una crepa che si forma nel muro oppure i personaggi che vedono qualcosa nell'oscurità viene fuori che siccome l'altrove che è un luogo fuori dal tempo e dallo spazio l'altrove ti permette di viaggiare anche nel tempo e se attraversi la fantomatica porta rossa puoi andare in altri punti nello spazio tempo e viene fuori quindi che alcune cose che sono accadute mentre i personaggi osservavano la scena erano causati dai personaggi stessi nel futuro dall'altrove per esempio nel quarto film mi è piaciuto molto che quando Elise cerca di scappare nel finale dall'altrove ecco che lei aprende una porta si ritrovava nella soffitta del primo film dove Dalton si era arrampicato sulla scala e si era rotto la gamba nel primo film che era ambientato cinque anni prima praticamente cioè è stato girato cinque anni prima Dalton vedeva qualcosa nel buio e pensavamo che fosse un demone per come lo trattava il primo film ma invece nel quarto film veniva fuori che era Elise che aprendo la porta rossa si è ritrovata nella soffitta e ha involontariamente spaventato Dalton queste sono cose che mi piacciono questi collegamenti particolari questi alla Sherlock tipo cose che ritornano in futuro anche se pensavi di aver già capito tutto prima in questo film non c'è niente di tutto ciò nell'altrove l'altrove non è più una porta spazio-temporale non ci sono collegamenti ai primi film in quanto a novità rivelazioni scioccanti particolari per tutto il film loro cercano sempre di inculcarti nella testa gli eventi dei primi due film ma senza aggiungere novità non ci sono nuovi mostri non ci sono nuovi demoni ci sono nuovi fantasmi nuove entità ma non ci sono nuove creature non ci sono nuovi misteri nascosti hanno proprio giocato facile hanno giocato sul legacy anche se questo film non è un legacy hanno giocato sul fattore remiriscenza ma senza puntare sulla novità e questo lo rende infatti un sequel fiacco secondo me molto fiacco questo era quello che pensavo senza spoiler di Insidious la porta rossa ora parlerò del film con spoiler perciò se in mezzo a questo film se vi siete più like se avete visto non andate oltre e gli spoiler iniziano fra 3 2 1 vai ebbene spoiler 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 purtroppo alcune cose le ho involontariamente rivelate sicuramente nella parte no spoiler ma dettagli più che altro di struttura tecnica della storia ma perché questo è un film della trama molto basica molto semplice e non c'è moltissimo da spoilerare infatti non credo che la recensione durerà moltissimo comunque sia il film si apre con il funerale della nonna di Dalton quindi il funerale della madre di Josh che era anche lei apparsa nei primi due film e non sappiamo di cosa è morta cioè sembra essere morta di vecchiaia o forse di un infarto non ci viene molto ben spiegata la dinamica e vediamo Josh che è anche distante dalla famiglia a quanto pare anche lui ha divorziato in questi dieci anni di distanza dal secondo film e la famiglia si è divisa Josh cerca di instaurare un rapporto un dialogo con i suoi figli la figlia sembra essere sparita nel nulla la vediamo solo per un secondo del funerale ma per tutto il film non comparirà e invece Dalton deve andare al college adesso perciò Josh si offre anche di aiutarlo di portarlo al college e di trascorrere almeno qualche giornata padre e figlio durante il viaggio per andare al college ma la famiglia non sembra essere in buoni rapporti e in più al funerale c'è l'amico di Elise lo spiritologo con i dadi che si vedeva nel secondo film anche se non mi ricordo il suo nome purtroppo e lui alla fine del secondo film presenziava la seduta creando quindi il vuoto di memoria sia in Josh che in Dalton è lui che ha creato l'amnesia e perciò dobbiamo ringraziare questo gentile deficiente perché comunque è un bel personaggio il suo ma dobbiamo ringraziare questo deficiente se accadono gli eventi di questo film perché scopriremo appunto che sopprimere i ricordi di Josh e Dalton in modo che loro non ricordassero di avere i poteri dell'altrove non ha fatto altro che innescare quindi questa reazione a catena di eventi che hanno permesso anche il luto della morte della madre di Josh contribuisce a risvegliare poco a poco il potere dei due solo che siccome loro possiedono il potere ma senza i ricordi quindi non ricordano come controllare questo potere aprono tra virgolette la porta e anche questa è una dinamica che non viene molto ben chiarita nel film ma ne parleremo tra poco aprono la porta rossa che permette ai demoni di entrare nel nostro mondo dall'altrove ma è per colpa dei loro ricordi soppressi perché è come acqua sotto pressione che è rimasta sotto pressione per troppo tempo fino ad accumulare una potenza tale da rompere le barriere della mente e difatti il potere adesso si è risvegliato senza che però loro sappiano come controllarlo e devono costantemente ricordare per tutto il film cosa è successo nei due film precedenti nei due film della saga Lambert cioè è proprio un pretesto di trama stupido nel primo film era una cosa naturale che Dalton scoprisse questo potere ma adesso lo hanno dimenticato per ricordarlo di nuovo è veramente una trama facilona secondo me ma comunque sia Josh non ricorda di quest'uomo di questo spiritologo e non sa neanche che è uno spiritologo e infatti costui ha molta fretta di andarsene perché non vuole riaprire i contatti con Josh rischiando di risvegliare i ricordi e mentre Josh monta in macchina si vede già quest'ombra che lo insegue da tanto tempo solo che non è la signora la signora col velo nero la killer non è lei è un'altra figura che scopriremo essere poi il padre di Josh questa è l'unica innovazione del franchise ci viene rivelato chi era il padre di Josh e anche come morì ma non è non c'è una grande novità in fatto di lore di trama ci viene solo rivelato chi era suo padre tutto qui e perciò Dalton arriva al college dove fa amicizia con questa ragazza di colore che si chiama Chris c'è stato un errore con i nomi perché Chris è facilmente fraintendibile sia come nome femminile che nome maschile hanno creduto che Chris fosse un uomo un ragazzo e perciò l'hanno messa l'hanno messa nel dormitorio dove sta Dalton perciò i due stringono amicizia fin dall'inizio con lei che gli chiede di raccontargli cose strane di lui perché a lei piace la stranezza e lui le dice sì io non ricordo i miei dieci anni non ricordo quando ho compiuto dieci anni perché è come se tutta quanta quella parentesi quell'anno sia stato cancellato dalla mia mente è come se avesse un vuoto di memoria so che sono finito in coma ma non ricordo neanche né di esserci finito né di essermi risvegliato perciò questo è inizia a ricordare quindi i fatti dell'altrove dei primi due film intanto Josh continua a vedere questa figura che gli appare alle spalle che crede essere uno sconosciuto che lo insegue fa anche un attack una radiografia per per capire se ha un tumore al cervello se ha qualche problema e c'è una scena inquietantissima girata molto bene da Patrick Wilson stesso che è anche in scena come Josh di lui che è nella macchina della risonanza magnetica ma si spegne tutto è come se all'interno della macchina si allungasse come un lungo tunnel e ci sono i morti dei pazienti zombie fantasmi fatti davvero bene che gli arrivano addosso e cercano di afferrarlo mentre lui è bloccato all'interno del tunnel bloccato in orizzontale all'interno della macchina della radiografia poi lui si risveglia e scopre di aver fatto un piccolo viaggio astrale nell'altrove mentre intanto Dalton inizia anche a fare amicizia con Chris ma anche lui continua a vedere queste cose per esempio al suo corso d'arte che è riuscito a farsi affibbiare anche la maestra d'arte che voleva la professoressa d'arte intendo lui viene spinto a disegnare sulla tela qualcosa dal suo subconscio qualcosa che è dentro di lui e disegna la porta ma una figura una specie di ombra fuoriesce dal disegno tagliandogli la mano un po' di sangue finisce sulla porta e infatti lui inizia a disegnare col sangue la porta rossa sono anche delle idee carine però io non ho capito che cos'è che ha scaturito gli eventi dell'altrove in questo film cioè Dalton la scena nella quale lui sta disegnando non è ambientata nell'altrove lui ha solamente avuto una visione di questa mano che fuoriesce dal dipinto che gli taglia la mano e si è ferito sì ok è un contatto con l'altrove però non capisco com'è che lui ha aperto la porta ha aperto la porta solamente disegnandola non è molto chiara la cosa all'interno del film infatti i fantasmi quando li incontra dicono chiudi la porta devi chiudere la porta ma in che circostanza l'ha aperta lui la porta rossa in questo film prima che gli dicessero di chiudere la porta cioè o mi sono preso io qualche passaggio oppure proprio non ho capito com'è che sia originato questo nuovo questa nuova crisi con i demoni e i fantasmi che iniziano a rientrare nel nostro mondo sta di fatto che lui si imbuca a una festa con Chris perché vabbè deve entrare a far parte di una confraternita cerca di capire come funziona il college ma trova tutte le feste molto stupide si accenna durante la festa a questo ragazzo che era morto previo di un incidente e lui mentre si nasconde nella camera del proprietario della casa di questo ragazzo snob davvero deficiente e molto bulletto ecco che trova nel bagno della camera del letto di costui il fantasma del ragazzo morto che continua a vomitare incessantemente con questa sequenza ridicola alla hit capitolo 2 di lui che si sporge dal letto per vedere meglio il fantasma e il fantasma gli arriva addosso vomitando di tutto quanto in faccia c'è proprio una sequenza alla ritchie tozier mi sembra che fosse ritchie nel secondo film no non era ritchie era eddie eddie casbrack in hit capitolo 2 di andy moschietti quando il mostro il lebroso gli vomitava addosso con la musica di deadpool 2 in sottofondo proprio una sequenza stupida qui si ripete un po' il concetto ma sia josh che dalton a distanza anche se avrei voluto vedere la loro vicinanza padre e figlio comunque a distanza iniziano a capire che forse queste visioni non sono frutto di pazzia ma sono collegate al loro passato che stanno cercando di dirgli qualcosa che loro forse hanno un dono particolare e inizia la lunga sequela di eventi che ci porterà piano piano a ripercorrere tutti quanti gli eventi dei primi due film ci sono per esempio alcune sequenze di josh che deve fare dei giochi per bambini cioè deve attaccare per esempio delle fotografie sulla finestra fotografie che sono duplici e deve ricordare quale e quale deve trovare la coppia di foto di suo figlio Lambert la coppia delle foto di sua madre solo che però ogni volta che fa questo gioco c'è la figura che lo segue fuori dalla finestra questo fantasma che si scopre essere suo padre Ben Lambert che lo insegue per cercare di dirgli qualcosa ma anche per come viene mostrato il film questa cosa è un po' stupida perché negli altri film veniva fuori che le entità benigne come per esempio Elise Lishai quando moriva diventava un fantasma che poteva comunque parlare interagire con Josh e con Dalton e parlava normalmente oppure anche la madre di Elise nei prequel come per esempio nel quarto film ovvero Insidious l'ultima chiave veniva fuori che le entità benigne che non sono demoni comunque aiutano pacificamente i vivi coloro che hanno il dono di vedere l'altrove ma invece in questo film Ben Lambert il padre di Josh per quanto sia un'entità buona fa delle cose inquitantissime come per esempio sfonda la finestra di Josh per inseguirlo lo insegue su quelle scale in maniera inquietante gli prende la testa e la sbatte sulla porta per farlo svenire andare nell'altrove in modo che lui veda la scatola con le fotografie di famiglia e la possa prendere per studiare queste foto molto stupida come cosa cioè altro che entità benigne sto Ben Lambert sembra uno psicopatico nell'altrove comunque sia Josh trova quindi la scatola del padre con le foto fa qualche ricerca e scopre che suo padre venne internato in una clinica in una clinica psichiatrica perché diceva di vedere le stesse cose che Josh e Lambert che Josh e Dalton stanno vedendo adesso e che vedevano anche nei primi due film questo è il piccolo retroscena che fa scattare la campanellina a Josh della serie ah quindi forse questa cosa è reale sto vedendo realmente cose che sono o sono nella mia testa oppure sono pazzo quindi lui va intanto a casa della famiglia a casa della ex moglie dei primi due film per cercare chiarimenti mentre Dalton fa squadra con Chris raccontandole di poter fare viaggi nell'altrove col suo corpo astrale e di vedere fantasmi e il demone rosso che torna a perseguitarlo mentre lui continua a fare questi strani disegni di un'entità davanti alla porta rossa ma è un'entità sfocata e verrà fuori che questa entità man mano che lui continua a disegnarla è suo padre con la faccia metà normale e metà mostruosa in pieno stile Jack Nicholson in Shining perché è una reminiscenza di quando suo padre cercò di ucciderli nel secondo film mentre era posseduto dalla donna in nero la donna col velo nero ma Dalton non capisce che non ricorda che era posseduto suo padre si ricorda solo che suo padre armato di martello e di piedi di porco cercava di sfondarlo la testa in pieno stile appunto Jack Nicholson Wendy sono a casa amore si crea quindi una specie di dubbio in Dalton ma quindi mio padre è pazzo mio padre è cattivo ed è per questo che ho sempre paura di lui anche Dalton va a casa sua per avere dichiarimenti dall'ex moglie e l'ex moglie gli ricorda si abbiamo concordato che era meglio cancellare la memoria a te e a Dalton in modo che non rischiaste più di andare nell'altrove non sapevamo che questa cosa avrebbe avuto effetti collaterali come per esempio te che diventavi sempre più spento più schivo nei nostri confronti e cercavi di allontanarti finché non ci siamo separati quindi ottimo piano l'idea di fare l'amnesia il piano dell'amnesia ottima trovata e perciò quindi Chris viene aggredita anche dal demone dal demone rosso che perseguitava Dalton nel primo film e viene fuori che quindi i demoni stanno per entrare definitivamente nel nostro mondo perché la porta è aperta da troppo tempo il contatto tra le due realtà è troppo vivido Dalton viene anche catturato dall'entità in rosso come per esempio anche nel primo film quando era stato catturato e posseduto e viene bloccato di nuovo alla cavigliera quindi si ripercorre la stessa cosa che è accaduta nel primo film con Chris che riesce a imbavagliare e a legare Dalton mentre è privo di sensi mentre Josh Patrick Wilson intendo si addormenta sulla poltrona di casa per andare nell'altrove e salvare suo figlio dalle grinfie del demone riesce a liberare Dalton dalla cavigliera come nel primo film i due scappano venendo inseguiti dal demone e riescono a entrare nella porta rossa che gli riporta a casa ma qui si poteva anche creare qualcosa di interessante perché Josh ricordando le parole di suo padre prima che si suicidasse tutto finisce con me perché il padre di Josh Ben Dalton cioè Ben Lambert pensava che suicidandosi il contatto con l'altrove ci sarebbe interrotto per sempre invece Patrick Wilson rimane bloccato cioè rimane aggrappato alla porta rossa per evitare che il demone la sfondi e invita Dalton a tornare nel suo corpo nel mondo fisico mentre lui resterà davanti alla porta per bloccarla si sacrifica sacrificherà il suo spirito per restare sempre davanti alla porta e bloccarla qui poteva anche essere interessante come cosa se non fosse per il fatto che il finale non è questo perché Dalton appena ritorna nel mondo materiale e si riprende il suo corpo va al dipinto che è quella la vera porta a quanto pare la chiave per bloccare la porta versa della vernice nera sulla porta per cancellarla in modo che Josh non sia costretto a rimanere davanti alla porta la porta si cancella da sola fumando tipo di catrame nero di vernice nera bollente Josh ritorna nel suo corpo i due si riappacificano la famiglia si è riunita e perciò sembra che Dalton si metterà con Chris mentre invece la porta dell'altrove è stata bloccata per sempre la famiglia Lambert non avrà più niente a che vedere con l'altrove e nella scena dopo i titoli di coda sembra che la luce che punta verso la porta rossa però stia lampeggiando ancora quindi non è finita o meglio forse è finita per i Lambert ma non è finita con l'altrove in generale qualcun altro qualche altro medium o sensitivo avrà a che fare con l'altrove e potrebbe essere questo il trampolino di lancio per lo spin off con Kumail Nanyani chi lo sa cioè ci rendiamo conto quindi che alla fine del secondo film il cliffhanger che riguardava questa famiglia aiutata dagli amici di Elise i due spiritologi i due ragazzi il tecnico e lo spiritista che si rendevano conto che questa famiglia era posseduta da un altro demone quel finale non serve a niente perché è un cliffhanger a vuoto con anche il fantasma di Elise che guardava questa entità ma a quanto pare è un cliffhanger che non porta a niente era un caso come tanti altri del paranormale che riguarda Elise e questi due ragazzi ma non ha avuto nessuno sbocco narrativo ci sono un paio di sequenze che ci rimandano a Elise come per esempio un video su YouTube che guardano Dalton e Chris di Elise che spiega cos'è il paranormale che cos'è l'altrove e come fare i viaggi astrali c'è un video dei due tecnici di Elise che hanno questo podcast su YouTube di come affrontare i demoni dell'altrove e spiegano anche loro cose sono i corpi astrali e poi alla fine del film quando Josh esce dalla casa di famiglia e si è ripacificato con loro ecco che vede il fantasma di Elise che gli dice che il futuro sarà roseo davanti a loro e poi sparisce come se fosse un fantasma guardiano che vigila sulla famiglia Lambert ottimo lavoro signora hai quasi fatto si che loro finissero ammazzati brutalmente dall'altrove quindi ottimo lavoro e bene ragazzi questo era Insidius sulla porta rossa spero che il video vi sia piaciuto se c'è like e nelle sue concessioni gameplay e molto di più a presto grazie a tutti